...del match, ma veramente sarà importante capire se lo avrà... Il ricamone... ...sette minuti... ...è questa azione... ...è Federer... ...il livello di intensità di Federer... ...eh sì... ...altra risposta... ...campo differente dopo un giorno... ...guarda qua... ...e beh che scambio... ...è questa... ...un punto importante per entrare nel game... ...la palla gli era passata... ...c'è proprio spalle al campo... ...ottima costruzione... ...è... ...di giocare... ...una palla di approccio... ...metter pressione a Federer... ...eccola qua... ...è ma il passante... ...lob... ...è... ... ... ...e Federer fa suo l'ultimo punto... ...e con esso il tie break ed il match... ...Federer che dunque conclude vittoriosamente il suo esordio... ...molto cordiale... ...la stretta di mano... ...anche un abbraccio tra i due che sono ottimi amici... ...6-0... ...7-6 dunque Federer... ...in un'ora e sei minuti... ...è...